Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha raggiunto la città di Senigallia tra le più colpite da questa ondata di maltempo nel pomeriggio per incontrare il capo della protezione civile Franco Gabrielli, il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi e il governatore della regione Gian Mario Spacca. Dopo aver effettuato una ricognizione in elicottero delle aree alluvionate è stato organizzato un incontro per fare il punto con i sindaci delle aree che hanno subito i maggiori disagi. Prima faremo il censimento dei danni, poi compatibilmente con le difficoltà che abbiamo nei vari territori ci sarà l'impegno da parte del governo, così il presidente del Consiglio Matteo Renzi dopo la visita nella zona alluvionata di Senigallia. Intanto il governatore Spacca chiede lo stato di emergenza. Un grazie al presidente Renzi per la vicinanza, la solidarietà e l'impegno ad un tempestivo intervento del governo, ha commentato Spacca. La situazione è pesante in tutta la regione, urge dotarsi di strumenti adeguati ad affrontare i cambiamenti climatici. Grazie a tutti.